Questo è quello per farvi vedere cosa succede quando facciamo scontrare due particelle, due facce di protone all'interno di acceleratore. Questo è la presentazione di Atlas. Vedete, facciamo scontrare queste delle particelle. Questi sono delle potentissime fotocamere che sono in grado di prendere migliaia e milioni di foto per seconda. Le particelle che sono prodotte.